Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vedremo fucile a pompa leggendario brainstormer, se non sapete come ottenerlo trovate il link qui sotto in descrizione per la mia guida per uccidere Katagawa, dove trovarlo, come sconfiggerlo, come combatterlo eccetera detto ciò iniziamo, vediamo quindi quello che ho ottenuto dalla mia farm, cash infused brainstormer danno 2162x7, precisione bassa, maneggevolezza buona, tempo di ricarica normale, cadenza di fuoco lenta, capienza caricatore 10, uniamo le nostre menti, livello caos 10 più 58% precisione arma, zoom arma per 2,7 molto efficace contro gli scudi, per quanto ci guarda la consacrazione non ci interessa il brainstormer è un fucile a pompa Hyperion molto particolare, infatti ha varie cose molto carine la prima è che può apparire solo elettrico e il suo sparo è una saetta, come potete vedere l'altra cosa carina, che purtroppo non posso mostrarvi contro Jack ma vedremo breve su Athena è che quando spariamo a un nemico c'è una probabilità che dei lampi elettrici colleghino questo nemico ha un altro più vicino e faccia danno ad entrambi, quindi è molto utile per fare dei danni quando ci sono tanti nemici vicini, ma visto che non posso dimostrarlo sul manichino di Jack andiamo su Athena a vedere come funziona eccoci arrivati, andiamo quindi a pushare e vediamo come si comporta, attiviamo l'abilità, troviamo un gruppetto di nemici vicini, vedete che ci sono dei fulmini che collegano i nemici tra di loro per i danni sembrano bassi ma dovete considerare che ammazzando un nemico ne ho ammazzati altri due spariamo a questo qua isolato, vedete che lo scudo è stato eliminato immediatamente per quanto i danni sembrano bassi sul singolo se trovate un gruppo di nemici avrete molti meno problemi vedete che anche il super pesante congelatore per quanto riguarda il suo scudo viene eliminato molto velocemente guardate qua, eliminato un nemico, due nemici, quasi ucciso un terzo guardate quanti nemici che sono stati eliminati con una build adatta magari a rigenerare i proiettili o usando quest'arma soltanto per eliminare gli scudi vedete che è estremamente buono quindi per me è un'arma consigliata e approvata per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video e noi ci vediamo nel prossimo da Rodietutto, ciao a tutti grazie a tutti